In questa puntata Vaccini, in aula il punto sulla campagna Risoluzione unanime contro l'omofobia La seduta del Consiglio regionale si è aperta con un ricordo della strage della Moby Prince nella quale 30 anni fa morirono a Livorno 140 persone Nella stanza dell'armadio della Memoria, nei locali della biblioteca in Consiglio il presidente Mazzeo ha inoltre svelato una targa in ricordo delle vittime Sono passati 30 anni da quel tragico 10 aprile oggi noi abbiamo voluto apporre una targa perché è proprio qui l'abbiamo voluto apporre nella biblioteca della Toscana vicino all'armadio della Memoria perché la Memoria è l'unico modo per coltivare la nostra storia e le nostre identità oggi ci è mancato Loris Lispoli che ha sempre combattuto per la verità e la giustizia e noi con questo segno abbiamo voluto dire che quella verità e quella giustizia vanno trovate e per questo vogliamo e chiediamo con forza che il Parlamento riapra una commissione di inchiesta perché la verità e la giustizia si possono trovare il nostro è un gesto simbolico è un gesto di vicinanza alle tante famiglie che hanno perso i loro cari a quelle famiglie che ho avuto il piacere, l'onore di incontrare a Livorno qualche giorno fa e nei cui occhi ho visto una sola richiesta per le istituzioni aiutateci a trovare verità e giustizia e noi siamo al loro fianco L'assessore alla salute Simone Bezzini ha risposto in aula alle interrogazioni sulla campagna vaccinale al centro del dibattito Noi eravamo avanti sugli over 70, avanti sui 90 anni sui fragili è un dato un po' anomalo quindi non si sa bene anche le altre regioni come sono messe e indietro sugli ottantenni sugli ottantenni abbiamo recuperato e siamo ancora avanti sulla fascia dei 70-79 e ovviamente gli over 90 quello va da sé quindi il limite ancora oggi continua ad essere quello dell'arrivo dei vaccini avevamo la notizia positiva dell'arrivo di Johnson & Johnson che come abbiamo visto purtroppo rimane anche questa subiudice e vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni purtroppo appunto le dose sono limitate è stato inserito un po' di dose di Pfizer per i super fragili questo ci permetterà di anticipare rispetto alle sole dosi di Moderna che sono poche, incerte negli arrivi e quindi diciamo che l'elemento che ci farà fare un passettino avanti nei prossimi giorni è la destinazione appunto di un po' di dosi di vaccino Pfizer in più che sono arrivate per la categoria dei super fragili ovviamente il grosso di quelle dosi erano destinate agli over 80 che ci permetterà di rispettare quelli appuntamenti che dicevamo prima però ci vorrebbero ancora più dosi per fortuna quelle Pfizer che erano quelle essenziali per le categorie dei più fragili si sono confermate anzi sono un po' aumentate rispetto alle previsioni noi abbiamo chiesto chiarezza chiarezza su quel termine altro che veniva individuato nella categoria vaccinata con il Pfizer che è chiaramente un vaccino da destinare in maniera specifica a coloro che operano in prima linea nell'ambito sanitario e agli ultraottantenni ancora ad oggi non abbiamo capito in questa categoria altro chi sono stati vaccinati faremo un accesso agli atti cioè vogliamo andare fino in fondo per capire quali vaccini sono stati usati e chi è stato vaccinato in base alle categorie poi le linee guida con il nuovo governo DRAI evidentemente sono cambiate quindi è stata evidenziata anche la priorità da dare su queste somministrazioni e si è parlato finalmente di operatori di prima linea ma è chiaro che la regione toscana non può nascondersi di fronte a un cambio di governo o a delle linee guida perché era evidente che il fatto che si parlasse di vaccinare operatori sanitari in prima linea fosse anche una evidente necessità una evidente operazione da compiere nel campo vaccinale ma sui vaccini c'è tuttora un grande caos allora io voglio essere molto chiaro noi siamo stati molto chiari come fratelli d'Italia il fatto che arrivino poche dosi non è responsabilità né di Gianni né di Bezzini i quali però devono dare risposte alle tantissime persone preoccupate fragili, over 80 coloro che hanno bisogno di avere la somministrazione presso il proprio domicilio che continuano a impazzire da un sito all'altro c'è ancora troppa confusione in questo la regione toscana deve attrezzarsi molto meglio nel dare risposte e soprattutto queste risposte non possono essere affidate soltanto alla via telematica i vaccini non vengono consegnati e ancora c'è da puntare l'indice verso i contratti capestro che sono stati fatti dall'Unione Europea nei confronti delle multinazionali del farmaco che mancano di fatto e hanno mancato degli accordi che sono stati fatti l'altra è l'organizzazione ancora oggi la piattaforma dava delle criticità per esempio i riservisti non si possono prenotare perché già probabilmente inseriti al sistema e non riescono ad accedere quindi in pratica abbiamo di nuovo questo problema e la commissione speciale che era stata richiesta ancora non si attiva contiamo che nasca tra oggi e domani sarà necessario trovare un accordo perché secondo noi sarà fondamentale che la presidenza aspetti a un membro dell'opposizione come sempre è stata la regola per le commissioni speciali e di inchiesta nella regione toscana quindi sarebbe incredibile se aspettassi alla maggioranza in pratica significherebbe insabbiare quello che era un progetto per lavorare a un obiettivo comune ma dopo aver evidenziato anche grazie al nostro lavoro in Consiglio regionale alcune criticità aver messo in evidenza alcuni punti alcuni limiti di quello che è avvenuto nei mesi scorsi a mio avviso adesso si sta iniziando a migliorare i numeri dimostrano e dicono questo credo che si debba fare bene e velocemente bene l'intervento della protezione civile bene anche il fatto che si possano utilizzare più metodologie di vaccinazione i medici di famiglia stanno facendo la loro parte però bene anche l'utilizzo degli hub credo che gli over 80 debbano essere fatti quanto prima così come le persone fragili e credo che si debba avere certezza delle dosi e un'organizzazione che deve essere supportata dalla commissione speciale noi abbiamo chiesto che venga istituita velocemente e questa perdita di tempo non è necessaria serve che maggioranza e opposizione si possano incontrare per dare un supporto fattivo collaborativo e questa commissione deve essere costituita anche da degli scienziati da dei tecnici che possano supportare il soggetto decisore politico per fare una migliore azione massiva che nei prossimi tre mesi possa consentire effettivamente di completare la vaccinazione la campagna vaccinale va ancora a rilento in Toscana certo c'è un dato che noi ci preme sottolineare da forza responsabile quale siamo se non arrivano i vaccini diventa difficile vaccinare abbiamo contestato in una prima fase alcune scelte della regione toscana non eravamo favorevoli a far vaccinare gli avvocati avevamo ragione oggi gli avvocati non si vaccinano più abbiamo chiesto di vaccinare immediatamente gli over 80 la regione era indietro oggi sta facendo con un sacrificio un avvicinamento a quello che è la media nazionale anche seppur in difficoltà e con dati peggiori della media nazionale avevamo chiesto di far vaccinare tutti i malati oncologici non soltanto quelli che hanno finito la chemioterapia o le cure dentro i sei mesi ma di vaccinare tutti quelli che sono in follow up cioè tutti quelli che hanno i cinque anni previsti dal sistema sanitario nazionale e dal sistema sanitario regionale con i codici di esenzione il consiglio regionale ha detto che avevamo ragione aspettiamo che anche il ministro apra tutti perché diventa inaccettabile vaccinare solo una parte di quei malati ecco perché chiediamo due cose la prima è che il governo faccia un'operazione e acquisti le fiale vaccinali necessarie a vaccinare tutta la popolazione il secondo elemento è che la regione toscana si metta in riga faccia gli hub faccia gli hub abbiamo chiesto gli hub per ogni comune il consiglio ha approvato all'unanimità una risoluzione a sostegno della giovane di Castelfiorentino Malika Shalì vittima di discriminazione e di un grave episodio di omofobia da parte dei propri genitori è stata invece approvata maggioranza una mozione che chiede che la proposta di legge cosiddetta ZAN contro l'omofobia venga discussa e votata in senato quanto prima ieri abbiamo approvato due atti importanti una mozione di sostegno a Malika per la vicenda che ha subito insieme alla famiglia un luogo dove ciascuno vorrebbe essere accolto e trovare la solidarietà necessaria ad affrontare il mondo credo che sia giusto sottolineare di questo episodio di Malika che riguarda Malika Castelfiorentino il fabbisogno educativo della comunità intera degli adulti e dei ragazzi Vieri per l'appunto in Consiglio c'era anche un atto a sostegno che promuoveva la calendarizzazione e chiedeva al governo la calendarizzazione al Parlamento scusate la calendarizzazione del DDL ZAN c'è stato un bel dibattito devo dire in cui si sono confrontati davvero due modi di pensare chi ritiene che debba essere scontato perché la Costituzione già lo dice che non si debba discriminare e quindi che un DDL una legge su questo sia ultronea e chi invece proprio partendo dalle cronache dice non basta l'affermazione di principio è necessario attuare quei principi con leggi specifiche che stigmatizzino certe condotte io sono intervenuta proprio per sottolineare questo cioè come sia indispensabile stigmatizzare condotte e comportamenti e come non si possa nascondersi dietro l'ipotesi del reato di opinione sono due temi completamente differenti sulla calendarizzazione del DDL ZAN per quanto sia competenza del Consiglio regionale decidere quando Senato e Camera debbano discutere i disegni di legge abbiamo votato fermamente contrari perché riteniamo che sia una proposta di legge un disegno di legge non solo strumentale non solo anche pericoloso ma soprattutto assolutamente inutile in questa fase storica noi abbiamo fatto gli ultimi due consigli regionali barricati dentro il palazzo mentre fuori in strada c'erano decine e centinaia di lavoratori che chiedevano ristori chiedevano aiuti non mi pare che ci fossero fuori migliaia di persone a chiederci di approvare il DDL ZAN diverso invece è il caso di Malica a cui va tutta la nostra solidarietà tutta la nostra vicinanza è folle è vergognoso è assurdo che nel 2021 ci possa essere qualcuno che si arroga il diritto di giudicare un'altra persona in funzione dei propri orientamenti sessuali ringrazio i colleghi del Consiglio regionale la Toscana tutta il Consiglio regionale esprime solidarietà a Malica per quanto è successo perché vuole metterla nelle condizioni di sentire il calore delle istituzioni toscane tutti i partiti politici presenti in Consiglio regionale hanno accolto il mio appello quello di fare un atto forte del Consiglio regionale che esprimesse solidarietà alla Malica quanto persona in quanto tale in grado di esprimere ovviamente la propria sessualità proprio orientamento e allo stesso tempo anche fare un atto che impegnasse la Giunta per mettere in campo azioni di sostegno qualora necessarie a confronto a favore della ragazza per consentire a lei come a tutte quelle altre situazioni che si possono verificare nella nostra regione di esprimere la propria libertà i propri sentimenti la propria sessualità e soprattutto la propria libertà la Toscana è terra di diritti la Toscana è terra di libertà e come tale questo è un atto importante è il primo atto pubblico che un Consiglio regionale fa in questa direzione e mi auguro che ce ne siano anche altri di sostegno a favore di tutte quelle persone che magari possono essere discriminate ingiustamente per il proprio orientamento sessuale io ho sentito la discussione in aula e ritengo incredibile che alcune componenti politiche da una parte votino e promuovano il sostegno e la solidarietà a una persona che è stata vittima di aggressioni per ragioni dovute all'orientamento sessuale e nello stesso tempo dichiarino come i loro leader Salvini e Meloni che una legge contro l'uomo lesbo bi-transfobia perché è qualcosa di molto più complessa e l'abilismo non sia una priorità ritenendo che in questo momento le attenzioni debbano essere tutte concentrate su legittimamente la questione dei vaccini dei ristori e delle riaperture l'informo che le commissioni sono differenti e che uno Stato che si ritiene tale che tuteli i diritti di tutti deve saper portare avanti tutte queste istanze nello stesso tempo Il Consiglio regionale ha inserito tra le iniziative del Capodanno Toscano le celebrazioni del centenario della morte di Renato Fucini scrittore cronista e poeta autore della celebre raccolta di racconti Le Veglie di Neri e di sonetti in vernacolo pisano questo è un percorso di commemorazione che mette al centro l'identità della Toscana toccando i luoghi che lo hanno visto più attivo da Pisa poi a Monterotondo sua città natale a Firenze e a Vinci dove ha vissuto un bel pezzo della sua vita insomma a cento anni dalla sua morte noi vogliamo valorizzarne la sua capacità di saper attraverso il vernacolo pisano attualizzare il tempo che viveva celebrare un'identità che non ha nulla ma sa valorizzare le differenze di ogni luogo Grazie a tutti